Jacopo, gol a parte, hai disputato un'altra buona prova in un ruolo non tuo, come stai vivendo questo ruolo da jolly e come stai lavorando per adattarti anche sulla fascia, Giuseppe Amato e il resto del calcio? Io sono contento di come sto facendo del periodo che sto attraversando, è vero che il mister mi utilizza in più ruoli, ma penso che al giorno d'oggi sia una cosa più che positivo, poi mi piace mettermi a disposizione per la squadra e sapere interpretare più ruoli. Francesco Maresca ti chiede, prima rete con la maglia delle Vespe, che emozione hai provato e secondo te come mai alcuni tuoi colleghi sono voluti andare via? Forse c'era qualcosa che non andava nello spogliatoio negli ultimi 15 giorni? Allora, per quanto riguarda il gol fatto sono felicissimo perché comunque lo aspettavo, diciamo, ci tenevo a segnare, quindi sono molto contento. Per quanto riguarda il resto della domanda, ognuno nel calcio fa giustamente, penso, le proprie valutazioni e voglio sottolineare che a livello di spogliatoio siamo sempre stati uniti, noi calciatori, il mister e lo staff. Giovanni Donnarumma, Vivi Centro, un po' di rammarico per il pari finale, ottima la tua prestazione della squadra che fa ben sperare per il futuro. Assolutamente, nel rientro e spogliatoio c'era un po' giustamente di amarezza, quando fai questo tipo di prestazioni ti aspetti anche di portare a casa i tre punti. È anche vero che forse nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo e penso che il salto di qualità che dobbiamo fare è proprio questo, quando magari siamo in vantaggio, soprattutto in casa, dover giocare per fare il secondo gol e non per difenderlo 1-0. Ultima Natale Giusti Vivi Centro, ti chiede come ti trovi in questa nuova posizione nel 3-5-2. No, mi trovo bene, quest'anno l'ho già fatta un po' di volte, ci ho preso l'abitudine, anche se non dimentico che il mio ruolo naturale è quello di mezz'ala. Grazie Jacopo. A voi. Grazie. Grazie.